Si è concluso oggi l'ottavo congresso della FLAI CGL Campania. Coltivare diritti, raccogliere legalità è il tema della Kermess organizzata presso il Grand Hotel Salerno. Due giorni di confronto e discussione per i lavoratori e gli operatori del settore dell'agroindustria campana per costruire un rilancio concreto del comparto nelle sue diverse sfaccettature. A chiudere i lavori l'europarlamentare PD Andrea Cozzolino ed il segretario nazionale della FLAI CGL Mauro Macchiesi. Mi sembra che questa fragilità del nostro paese purtroppo unifica l'Italia. Da nord a sud quello che sta succedendo è una scarsa manutenzione che c'è del territorio, dei torrenti, dei corsi dei fiumi. Il problema del rimboschimento che è stato completamente dimenticato nel nostro paese e che invece ha una funzione molto importante qui significa che servirebbe un piano straordinario che interviene appunto sulla manutenzione e sulla cura delle zone interne perché poi le alluvioni che ci sono, che colpiscono magari le città partono dalle condizioni del territorio nelle aree interne. Dobbiamo smettere di considerare categorie come i contadini, come gli trauci forestali, con uno spreco delle risorse pubbliche perché poi quando succedono queste cose come quello che è successo in questi giorni, soprattutto nelle città e nelle aree di montagna noi riscopriamo il valore strategico per gli anni a venire dell'agricoltura e della salvaguardia del nostro patrimonio boschivo della necessità di avere una politica pubblica e di avere finanziamenti pubblici che aiutano questi lavoratori, queste lavoratrici a svolgere un'attività che è molto un'attività di prevenzione, di tutela, di salvaguardia del nostro territorio. Per questo anche dentro l'emergenza di queste ore io vedo la riconferma di una politica verso l'agricoltura non come una sorta di ferro vecchio del passato ma come una straordinaria opportunità per il futuro.